Uno speciale Halloween, il 13 di novembre. Che schifo, sì, evidentemente non sono molto bravo, cioè... Sì, lo sto registrando un po' in ritardo. Sai, Minecraft mi aveva dato un po'... sapete come... E ho un po' addobbato per questo speciale Halloween. Sì, decisamente. Voi... no, 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 ora ve lo dico da me a te. Sì, ti sto guardando proprio a te. No, 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 non è lui, sei proprio tu. Per trovare queste ciccione, di queste qua, queste zucche, ci ho messo... Dal 31 ottobre, che dovevo trovare tutte queste zucche per mettere quelle lì, e poi le dovevo mettere lì, poi lì, poi le mettevo all'appo, e poi per fare gli spaventapassi... Insomma, è dal 31 ottobre che cerco le zucche. Questo è quello che vi devo dire. Comunque sì, ho addobbato anche la vecchissima, proprio vecchissima casa di Giorgio, che non so cosa cavolo gli è successo. E tu l'ha affittata a suo fratello, insomma. E ancora, io non mi sto spiegando questo. Ma sono dettagli, quindi chiudi. Allora, sì, adesso questa cosa dovrebbero... sarebbe più figa di notte vedere tutta... A parte queste zucche qua, che prima c'era del fieno. Prima c'era. E una cosa carina che ho voluto mettere... Che cavolo. Ragazzi, il Natale si sta già facendo sentire, e non ho messo neanche ancora l'Halloween. Ok, volevo dire, ecco è quello. Ho fatto un caminetto. Ok, è venuto abbastanza male, però... Vabbè, ragazzi, mini-gioco. Come ho fatto a fare quella scea di fumo che sale dal caminetto? Scrivetelo nei commenti. Tanto, voi che siete dei veterani di questo gioco lo saprete subito, mentre io ho dovuto guardare un tutorial, perché veramente... No, però dai, non posso spoilerarvi? Vi sto già spoilerando, nulla, ormai avete visto tutti. Però non ve lo dico lo stesso, comunque l'ape è indemoniata, il pollo è indemoniato, il maiano è indemoniato, insomma, sono tutti indemoniati. Comunque è molto bello. Allora, per fare il cappello ho dovuto mettere questi qua. Infatti ho dovuto uccidere pochissimi ragni per farlo. Comunque dai, è bellino il cappello. L'ho fatto accesi, uno solo l'ho fatto spento, perché... L'ho voluto fare accesi perché di notte era bellissimo. Qua Giorgio, visto che qua c'ha la voglia di costruire, che manco... Questo parte qua, ragazzi, è da inizio, da inizio serie che non l'ha mai tolta. Infatti ha avuto voglia di mettere uno spaventapasseri e non ha avuto voglia di zappare qua, ma veramente... Giorgio, Giorgio, no, Giorgio, ora dobbiamo fare... Giorgio, stai andando in fallimento, eh. Eh, sì, mi sta prov... Stai andando in fallimento! Ma come fai a vendere la terra, me lo dici te? Eh, come fai? Non puoi, è bravo, infatti. Allora ti vuoi muovere. Poi, tra l'altro, mi sono fatto... Mi sono rifatto il piccone perché l'avevo rotto. L'accetta. E non gli ho fatto la zappa. Mi dispiace, ma se devo fare la zappa la farò di legno, mica di diamante. Ah, comunque no, ho addobbato un po' tutte le case. Sicuramente non tutte, perché... Io c'ho una voglia di addobbare, vero, Golem? Ho dovuto sprecare anche 500 torce per farlo. E quindi... Guarda, guarda, guarda. Cioè, veramente... Poi mi sa che casa mia l'ho addobbata soltanto, mezzo, con le zucche lì, tanto, per... Per di tant'è che ce devo mettere qualcosa. Non ho addobbato la casa del Creeper. Perché chiunque abbia fatto la casa, chiunque sia entrato nel mio server a fare quella casa, io non l'addoberò, ma neanche a Natale. Comunque, non mi sto spiegando ancora questo. E... Nemmeno questo. Questo qua. Non so nemmeno... Si può andare qua sotto, no? Perché... Non ci si può notare passare tipo sotto, non credo. Aspetta, fatemi provare. Si può! Wow! What? What? Cos'è? 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 Scusami! Scus... Scusami! Oddio! Che è? Ma c'è... Ragazzi, questo non era... Ci sono dei cartelli? Ma... Non ci sto capendo più. Ragazzi, ma mi potete spiegare cosa... Dove mi trovo? Qua è... Qua è... Qua è disto... Oh! Ma che cavolo è sto posto? C'è un altro palloncino qua. Frati... È... È chiuso. Vabbè, che se ne fare... Non mi sto spiegando ancora, perché... C'è sto punto qua, però... Forse è un easter egg? Non lo so, non... Io, ragazzi, non ho fatto né la... C'è una torcia, bello. Meno male non era una torcia di redstone. Sì, però come faccio a risalire? C'è... Ok, che... Non posso volare. C'è, ok, vorrei volare, però non posso. Ce l'ho dei blocchi. Per fortuna... Io porto sempre dei blocchi. Aspetta, andiamo ad andare sotto di qua. Guardate se devo sprecare la mia regna per fare... Oh, ok. Ma che cavolo? Ma che ci prendiamo in giro? No, sali, sali in alto. In alto, no. Non cadere di no... Speciale allo. No, davvero, però sembra un po'. Volevo andare un po' nel nether. Ma mi sa che... Ma che me l'ha fatto fare di continuare a mancare. No, ma davvero, ma ci prendiamo in giro? Cioè, chiunque abbia fatto questo schesso, bellissimo. Che bello. Ma sta a vedere che le foglie, questa cosa c'era per Halloween. L'avranno fatta per Halloween. E io l'ho scoperta il 13 di ottobre. Vabbè, però, scusatemi, signori, dovrei risalire. Cos'è stato tutto l'episodio qui? Che che dici? Ragazzi, si fa un giochetto? Eh, c'ho 42 di legna, andando a trovare la legna è facile. Ci ritorneremo poi in questo posto, perché... Sì, è un po' di tardo sto punto. Eccoci, infatti, chiudiamo proprio. C'è un altro buco da cui posso risalire? Aiuto. Ragazzi, sono io cieco. Ok. Le torce che mi sono rimaste. Ma che c'è? Cosa? Cosa è successo? Cosa è successo? Ma che ci prendiamo in giro? No, 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 dai, dai, dai. Che è sto cosa? Sto a spacca tutto il... Dio, non ci sto capendo più nulla. Oh, ma cos'è? Ragazzi, dove mi trovo? Qua da dove son salito io. Fessa, fessa, ma cos'è? Accidenta a te. Accidenta a sto cartello tardo. Non si spacca. Spaccati. Ti sfondo il cranio. Così che nel mille... Ok, grande, grande. Devo risalire. No. Ok, ok. Piazzalo. Sì. Cos? Sì. Grande. Guarda. No. Ti scasso. Te lo sai vero. Senti. Sta a fare un giochetto. Ecco. Ecco. Ah. Ah no, ci sono passato. Ho un cartello. Sta a scrivere qualcosa di interessante su questo cartello, eh. Allora, cosa ci posso... Non ci scriviamo nulla. Vai, lasciamo un cartello volante. Speciale Halloween. Non ci sono così tanto. Quanto sta parte la taglio. Ce la taglio. No, la... Ok, ragazzi, sono riuscito ad uscire. Ho tagliato tutta la fa... No, da... Ottimente. Allora, non so se ho tagliato o no, ma l'unica cosa che mi interessa è che... Cavolo. Dovevo andare nel nether. E sono stati intrappallati in una fogna per 50 anni. Permesso. Ecco, grazie. No. Voleva andare nel passaggio segreto barricato. Nessuno può andare. Ok, avete rotto anche le scatole. L'ho fatta apposta, eh. Ma l'ho fatta apposta, proprio per vedere se voi eravate attenti. Ok, mi sono messo l'elmetto e ora... Let's go. What? What? Ah, già, è vero. Avevo scoperto. Mi... Mi... Ci ho giocato vent'anni fa a Minecraft. Non mi ricordo nulla, no? Pigman? Zombie? Cos'è? No, no, guarda, guarda, guarda. Può anche rimane qui. Scorsa volta, signor Pigman, c'era un amichetto non aspettato. Si chiama Gast. Eh, ciccione! Ciccione lì, ancora lì. Oh, ma questa mi serve a me. Ce l'avevo già un pochino. L'avevo già preso un po'. Se vedessi qualcosa. Stavo dicendo che l'avevo già preso un po' di quarzo del... Ma la fortuna. Ma la fortuna in questo... Oh mio Dio, non so come ho fatto a non cadere con la mia fortuna di tutti i giorni dentro quel buco. Prendiamo il quarzo, prendiamo il quarzo, prendiamo il quarzo, prendiamo il quarzo, prendiamo il quarzo. Non facciamo scendere. Sì, questo, questo è bellino. Voglio prendere questo. What? What? Ah, mi ha dato... Glowstone Dust. E che cavolo è? Vabbè, prendiamo un po' di Glowstone Dust, va. Ne ho già tredici. Prendiamo un po' di Glowstone Dust, anche se non so... Ah, magari... Aspetta un attimo. Non ci sto capendo. No! Tanto lo so, tanto lo so che poi c'è un buco e io ci cado dentro. Brutti ciccioni. Buconi. Belli. No! Con quale fisica? Scusami. Ok, no, io mi sto spaventando. Ok. Sì, è luce e fughe, bello. Adesso, secondo me... Stranamente, ancora... Eh, eh! No! Ok, 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 fai più steam, farti mai più steam, farti mai più. Dammi la torcia. L'ho ripreso, sì, ottimo. Scappiamo da qui. Scappiamo da qui. Adesso voglio fare... Sì, altri blocchi. Non so. Sarei a fare blocchi di quarzo, infatti volevo farmi una casetta di quarzo. Perché le cose sugli alberi fanno schifo. Le luce... Ecco, infatti, tardicchi. Blocchi pensavate di scappare? Scappare? Scappare. Ah! A questo punto li potevo anche lasciarli, erano due o tre, quindi... Ok, che bello, ho preso tanta roba interessante. Mi sembra di aver sentito... Oh, altra glowstone! Yeah, che bello. Yeah. A glowstone dust! Se ti dicessi... Ti dicessi che mi sono... Ah, no, che... Perché io potrei perdermi anche così. No, prendiamo i fu... Accidenta a te, accidenta... Quei blocchi di magma... Sono belli. Però... Che fine hanno fatto quei pigman a caioquoli? Sai, quei blocchi di magma... Mi ispirano. Però, sai, se c'è un ghast... Non mi ispirano. No, che... No. What? Ma quello è uno skele... What? Ok, aspetta. Ma... Ma... Ma che se non tardo io? Ma quello è uno skele... No, signore Skelet... Scusi, lei che ci fanno il nether? Eh, ciao. Ragazzi, tanto noi non ci dobbiamo capire nulla in Minecraft, quindi non... Tanto so che c'è il ghast... Tanto ciò che è stato ciò che c'è quel ciccione del ghast... L'ho c'è del magma... Io volevo prendere il magma, però... Io... C'ho già provato a prendere il magma e sapete com'è finita? Male. Sapete perché? Perché arrivati il ghast? Che mi ha fatto bene? C'è niente, sono delle palle di fuoco... Ok, allora, ricordiamo un po' come salire... Dov'è il ciccione? Dov'è quel ciccione? Allora... Facciamo un piccolo... Facciamo una prova... Ok? Prova, prova... Un, due, tre... C'è qualcosa per risalire qua? No... Lì ci sarebbe, aspetta un attimo... Ok... Allora... What? What? No, no, no... Oh, no... Ehm... Ok... Allora... Da qui si può scendere... Ma qua non posso salire... Ok... Grazie mille... Grazie... Ora... Potete capire un po'... La cosa del ghast? No? Madonna di quella cicciona morta! Guardalo! Ciccione! Che verso fa... Littardo! Dovremmo fare un'altra via, ragazzi... Quel magma... Sarà mio! Ok... Potrei anche ucciderlo, quel ghast... A costa di avere il mio magma... Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ciccione... Erbone... Oh! C'è il ta... Sì, anch'io però sono un tardo, però... Capito il ghast, però... Se io mi butto nel lava... Allora... La cosa che devo fare io... È trovare un modo per... Ciccione! Chiudi... Allora... Se io devo andare di qua... Allora... Io devo trovare un modo... Vattene... Per risalire... Perché quel ghast... Una volta che... Io sono sceso per prendermi il mio... Mag... 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 Però, da qua giù, non posso. Aspetta un attimo. No. Ok. 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 No. Scelentati. No. No, no, no. Oh. Oh mio Dio. No, sono caduto, eccoci, eccoci. Ragazzi, io non mai più, sono caduto anche. Mi devo nascondere dal ghost. Mi devo nascondere solo dal ghost. Dov'è? Dov'è? Ecco, 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 ecco. E' lì. Lui sa che sono qui. Lui sa che sono qui. Lui sa che sono qui. Non mi spostare? Vattene. Lui sa che sono qui. Guardalo, che stalker. Stalker ciccione. Se mi affaccio, muoio. Guarda. Dimmi che non l'hai guardato in faccia, personaggio. Dov'è il mio bersaglio e dove mira il mio personaggio? Dove sta guardando, quindi? Dove. Due. Aia, aia. Ok, due è anche troppo. Grande, tre. Ok. Scusate se non sto parlando, ma questo è un momento brutto. brutto. Lui sa che sono qui. Ma io la mia missione l'ho già fatta. Sì. 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 Godo. Ciccione di un gasto. Lo sapevo io. Torna indietro. Con i tuoi tre blocchi di magma. Sì. Lì va, lì va. Che bello, ragazzi. Che bello. Sì. Trent'anni per trovare un blocco di magma. Ora però, lo dobbiamo portare a casa mia senza morirci. Cavolo, cavolo, cavolo. Ragazzi, scusate se non ho parlato tanto in quella parte, ma era un momento critiquen. Per le cose importanti. No. No. Non ti curare? No. Ha dato qualcosa? Cavolo. Scalettro mi dalle frecce. Ok. Ragazzi, grazie per la visione. Oh mio Dio, non ce la faccio più. Il mio personaggio sta crepando di fame. Dormi. Sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Io devo mettere ancora la targhetta al mio cane. Che sta crepando. Non so nemmeno che ce l'avevo. Non l'avevo dimenticato. Oh mio Dio. Ragazzi, questo è stato un episodio critico. Critico. Fatemi togliere. Ecco. Critico. Ma adesso possiamo dire di aver vinto. E celebrare con vittoria. Allora, allora. La glowstone. Ma il cavolo si fa? Allora, ecco. No. Allora, cercherò di capire dov'è che si fa la glowstone. Anche perché in teoria dovrei cercare un bel po'. Ok, qua no. Ok, glowstone. Per fare il blocco ovviamente, no? Un... Ah... Bono, lo so ragazzi. Guarderemo prima o poi. Magari io sono un tardo. Da quant'è che non vedo la faccia del mio cane? Amorino, da quant'è. Ragazzi. Io mi so che dovrei fargli una chiuccia. Una cuccia a lui. Perché Feraccio sta sempre qua. Guarda, io la cuccia non so se farla qua. Ma anche se è uno schifo fare la cuccia qua. Comunque avete... Adesso potete fare uno screenshot. Anzi no, lo dovrevo... Lo dovrevo. Lo dovevo fare io uno screenshot. Proprio in questa posizione. Per la... Ovviamente, per fare lo screenshot come ho fatto. Allora, intanto ve lo faccio fare. Allora, user interface. Innanzitutto mi sono tolto la mano. Poi, non mi ricordo come ho fatto per togliere... Ecco, così ho fatto. E ragazzi, così è proprio... Puoi fare uno screenshot come vuoi te. Praticamente io mi sono messo... Non mi ricordo dove laggiù, ecco. Mi sono fatto una scala di terra. E mi sono... Ho fatto una bella foto. Così. Almeno che non si vedeva le mani. E nemmeno l'inventario. Almeno che veniva proprio bella. Comunque non voglio fare 20 minuti di video. Quindi... Ma io l'ho già fatto i 20 minuti di video. Cosa ho messo? Comunque nulla. Aspetta un attimo. Ma è sempre animato. Io ho tolto le animazioni del giocatore, ma lui è sempre animato. Boh, non lo so. Non so se diceva in un altro... Boh. Va bene. Comunque no. Nulla. Non ce ne andiamo. Addio ragazzi. Lascio... Beh, dovrei farlo di notte questa cosa qua. Ma nulla. Io vi saluto. Mi mettono nello stesso punto in cui ho fatto la intro. Comunque. La cuccia del canno la farò sicuramente giù vicino a casa mia. Ecco. Dove l'ho fatta la intro qui. Io vi saluto. Metto anche la spada in mano perché sono più forte. No, questo è un os. Ok. Addio. Ciao ragazzi. Ciao.